Ciao amore, com'è andato oggi al lavoro? Benissimo, è arrivata una nuova collega, è molto simpatica, va pazza, ben fidatissima Bene è arrivato il nuovo direttore fisico d'atleta, impazzisce per il cuore leggero Contento lui Contenti tutti Scusa, facciamoli conoscere, tra di noi ha funzionato? Mettiamo una buona parola Parola di Francesca Amadori Amadori presenta le due facce della passione I fidatissimi, pollo e tacchino in una croccante e gustosa panatura E i cuorleggeri, filetti di pollo impanati non fritti